La caccia e lo champagne, che rapporto hai? Stretto, molto stretto, mi piace moltissimo champagne, mi fa festa, mi fa gioia, è molto femminile, è divertente, mi fa stare su di morale, mi piace, mi piace di condividere champagne con le amiche, mi diverte. Se parliamo di cocktail, tutto da mie vici? Cocktail mi diverte, mi diverte molto, allora, cocktail fruttato, alla base di frutta, non molto alcolico, leggermente alcolico, così io posso passare tutto l'aperitivo, tutta la serata, con il cocktail, tranquillamente, con le amiche, mi diverto moltissimo, sì, cocktail mi piace molto. Secondo te, qual è il giusto prezzo quando si va a bere fuori in un bar per pagare un drink? Ma guarda, il massimo che pago volentieri adesso non lo so esattamente, perché sono cocktail diversi. Oltre i 15 euro? No, 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 15 euro è anche più maci, è troppo, 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 troppo. Sempre più basta. Bacio!